pare di sì napoli bayern monaco napoli bayern monaco buono sto grillo di sicilia chiesto grillo di sicilia che ti stai bevendo che è buono sto grillo di sicilia è un vino ah non lo conosco cioè non lo conosceva adesso me l'hai detto intanto follow ruscio in campo dall'inizio al posto di lobotka quindi anche se diventa mediano follow ruscio on fire ragazzi veramente penso che veramente mi mancherà il nostro avversario doppia punta e 4 tre quartissi addirittura porca puttana io vado a chiudere le punte con le marcature andiamo a vedere ragazzi mi trovo fortunato in questo momento con la questione con la questione difesa 5 io perché questi 14 attaccanti fanno un po' paura vediamo potrebbero scoprirsi facilmente napoli bayern monaco andiamo ebbè sa ma com'è fermo e frizzante gradazione alta di un po' o simen palla per anch'essa vada mario lui lui dentro per follow ruscio si gira follow ruscio palla per caraschella che appoggia però simen che prende questa palla cerca il maestro mario lui che tira di prima mi lancio lungo simen prova a metterla per maradona riparte il bayern di monaco anch'essa deve rientrare zamba anch'essa si divora l'avversario scende anch'essa perde palla regola palla costa curta attenzione follow ruscio provano adesso loro ad allargare il gioco follow ruscio prova a rientrare olivera palla per follow ruscio che allarga per lui va dentro da caraschella si ferma caraschella beckenbauer lo ferma peccato olivera follow ruscio palla per quara appoggia per lui 1 2 con caraschella si ne va lui che arriva al cross in mezzo simen non riesce a tirare peccato anch'essa non riesce a arrivare questa palla attenzione zamba anch'essa palla dentro lama arriva buongiorno bell'intervento di alessandro buongiorno palla adesso è follow ruscio però si era fermato buongiorno deve rientrare al centro della difesa attenzione mario rui follow ruscio adesso il ripiego attacca il bayern monaco bravissimo di lorenzo di lorenzo follia totale raccamani risolve e poi adesso caraschella prova l'1 2 non riesce con osimen palla dentro di lorenzo palla per lui che prova ad allargare non ci riesce se la va a riprendere mario rui attenzione qui mario rui 1 2 con follow ruscio caraschella dentro per lui ancora caraschella porta palla qui c'è caraschella dentro per osimen la palla non passa attenzione attacca il bayern fallo di buongiorno liscio 12 e mezzo leggermente dolce al retromusto sembra molto interessante costa curta attenzione palla dentro anche sa vada maradona maradona tiene palla va dentro da vittorosimane gran palla di riego per victor osimen che adesso porta palla la mette di tacco a maradona ancora per osimen un po di confusione qui osimen gira per di lorenzo tacco per osimen ancora che arriva al cross victor osimen per caraschella una giocata strana ancora palla per di lorenzo la mette dentro per caraschella che va di testa mio dio che stavamo facendo passaggio filtrante alto di di lorenzo per criccia caraschella che stavamo facendo ragazzi che stavamo facendo attenzione palla dentro il bayern prova ad attaccare caraschella maradona non riusciamo a recuperare questo pallone anghissà folo ruscio dentro esce bene il bayern monaco arriva anghissà olivera folo ruscio sbaglia tutto folo ruscio palla dentro buongiorno folo ruscio palla per anghissà la gira per caraschella che prova a scendere caraschella prende campo quara va dentro da maradona si gira maradona non riesce a passare diego tensione di lorenzo regola palla giardino di lorenzo scende di lorenzo cerca victor osimen direttamente dentro l'alza per maradona maradona arriva al cross in mezzo cuara schella c'è donna roma bilancio lungo tensione provano ad attaccare ancora loro il bayern folo ruscio prova a chiudere gli spazi non ci riesce raccomani si maradona adesso scende cerca caraschella appoggia folo ruscio che arriva prova a lasciarla lì cara riguarda palla donna roma donna roma che adesso rilancia lungo buongiorno la mette giù osimen appoggia maradona che non riesce a tenerla tensione qui riparte bene buongiorno palla per folo ruscio gran palla per osimen ancora per folo ruscio che la mette per osimen che spara ahahahah gollasso di victor osimen su assist magistrale di michael folo ruscio collasso di victor osimen attenzione victor brutto anche questo sa è vero olivera palla per michael folo ruscio prova a lanciare quara schella che prende campo quara schella attenzione quara prova il dribbling ecco ci ha provato ancora anghissa dentro per folo ruscio che non tiene questa palla peccato mario lui va dentro sbaglia lui erroraccio di lui vanno dentro loro di lorenzo torna raccomani chiude su chiesa anghissa attenzione palla dentro volo ruscio incredibile anghissa palla dentro per osimen che se no vittor vittor osimen l'alza per clara schella che non riesce a chiudere di testa maradona dentro per michael folo ruscio niente da fare riparte il bayern adesso anghissa l'appoggia michael folo ruscio che scende l'appoggia da anghissa vazzammo anghissa anghissa fino in fondo anghissa cross e mezzo osimen di testa la parata del portiere e poi calcio d'angolo brutto brutto calcio d'angolo mamma mia clara schella andrà da amir raccmani attenzione raccmani prova a tenere la posizione raccmani prova a metterla dentro non ci riesce folo ruscio prova a ricordare palla non ce la fa riparte il bayern monaco a 400 all'ora con 400 attaccanti se ne va messi torna olivera messi dentro c'è buongiorno in chiusura fantastico e poi olivera la spazza fuori per il primo fino alla fine del primo tempo 1 a 0 bayern dimentico di dirti che se piazzi spina terzino a sinistra un ottimo tiro a giro lo so in realtà questo si però non mi dispiace ragione lo metto troppo poco so tutto come centrale non mi è dispiaciuto eh attenzione riparte il bayern monaco osimen a recuperare questa palla osimen prova il dribbling folle osimen non la riesce per recuperare anghissa prova a rientrare bravissimo di lorenzo la butta dentro per osimen cerca centralmente folo ruscio poi si recupera palla ancora per folo ruscio dentro palla per cavara schelea appoggia per osimen che tira la prende il portiere secondo me uscita fuori osi la butta per cavara schelea scheno qua 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 me lo sono divarato brutto proprio attenzione folo ruscio stiamo sbagliando cose un po' elementari però molto male così folo ruscio recupera palla dentro la palla sbagliata di folo ruscio attenzione mario lui anghissa esce prepotentemente sbagliamo le uscite qua di lorenzo deve rientrare cross in mezzo mamma mia tira a giro cross in mezzo il cazzo meret salva meret salva calcio d'angolo braccietto sinistro ok calcio d'angolo attenzione palla dentro attenzione battaglione meret lancio lungo di alex verso semen che prende posizione l'appoggia maradona che non riesce a dribblare maradona di lorenzo anghissa maradona anticipato riparte il bayern monaco bella questa transizione da parte loro non posso dire assolutamente niente buongiorno olivera meret miracolo di alex qui salva ancora meret che cosa sta prendendo alex meret rilancio lungo ragazzi cosa sta prendendo alex in questa partita maradona di testa per di lorenzo palla per maradona attenzione attacca il bayern monaco stiamo difendendo in maniera un po' approssimativa per il momento anghissa l'appoggia di lorenzo che scende di lorenzo palla per maradona l'appoggia ancora di lorenzo ma è recuperato bene il bayern monaco palla dentro olivera mario lui anticipo di lui scende lui l'appoggia centralmente per anghissa vada che vada schelia dentro per osimen cerca maradona osimen maradona un po' si nasconde dal mio punto di vista in questo caso brutta questa buongiorno bel intervento racmani allarga per di lorenzo prova ad andare dentro non c'è il fallo laterale di lorenzo recupera palla e racmani fa una follia inaudita buongiorno prova a chiudere buongiorno vanno a giro 1 a 1 chiesa io me lo merito di lorenzo palla per maradona dentro per di lorenzo si escono ad andare ad attaccare meglio loro adesso palla dentro pempea ancora dentro racmani vada maradona scende riego palla per caraschelia che cerca subito dentro simen caraschelia ricorda palla dentro per victor sbaglia ancora il passaggio si servono dei cambi adesso solitamente di lorenzo prova a scendere giannino di lorenzo ancora di lorenzo vada dentro simen la palla finisce a maradona che penetra l'aria maradona vada foloruncio che si spossa il pallone e calcio d'angolo ha fatto un gran gol gran gol facciamo un po' di cambi ragazzi un po' di cambi cavaro si messano a terra dentro il ciolito adesso fuori cavara e dentro politano assolutamente si fuori anghi sa che stanco foloruncio diventa centrocampista centrale tolgo il mediano doppio trequartista foloruncio centrocampista centrale andiamo così aspettate un po' di stanchezza qua spina solo al posto di lui e mazzocchi al posto di lorenzo cambiamo entrambi gli esterni e andiamo maradona cercherà alessandro buongiorno il premio marcato adesso da ronaldo ci ho fatto caso buongiorno la mette dentro per il ciolito simeone in due tempi il ciolito ci riporta avanti il ciolito in due tempi il ciolito mazzocchi palla per maradona maradona l'appoggia mazzocchi palla dentro per simeone ancora per mazzocchi che scende mazzocchi però a darla a maradona mazzocchi ancora con la palla verso il ciolito simeone doppietta in due minuti del ciolito simeone ragazzi doppietta in due minuti del ciolito che al momento ci risolve la partita 3 a 1 strepitoso 3 a 1 bene così attenzione mazzocchi bravissimo pasquale mazzocchi qui palla per maradona maradona rientra dentro per pasquale mazzocchi fermato da davis riparte adesso il bayern di monaco con raccomani che fa un grande intervento di posizione mazzocchi prova ad andare dentro la palla non passa ancora raccomani in chiusura folo ruscio non riesce a chiudere deve chiudere buongiorno su chiesa attenzione chiesa fino in fondo è passato ronaldo 3 a 2 porca puttana 3 a 2 abbiamo preso un brutto contropiede qua 3 a 2 partita frizzante folo ruscio palla per mazzocchi scende mazzocchi dentro per maradona ancora mazzocchi incredibile dentro per il ciolito un paio di cose esaltanti qui mazzocchi tacco per raspatori che tira giacomino giacomino raspatori ragazzi giacomino raspatori la cambiamo con i cambi questa partita spinazzola dentro per raspatori che si allunga troppo la palla c'è folo ruscio attenzione torna anche spina buongiorno palla per folo ruscio che scende adesso scende michael michael folo ruscio l'appoggio a raspatori che va raspatori centralmente da maradona fermato diego folo ruscio dentro per raspatori la butta per politano politano vada maradona si gira maradona fallo su diego maradona brutto mamma mia raspa ragazzi mamma mia raspa le seconde linee hanno fatto la differenza attenzione qui va maradona diego dalla distanza donna luma donna luma 4 a 2 intanto davis prova a prendere a costruire donna i marra ne marra che se ne va attenzione raspa ancora davis proviamo ad attaccare a se difendere scusate olivera a vuoto spinazzola va dentro ne marra attenzione ne marra cross in mezzo buongiorno due volte su ronaldo poi raspa dori per folo ruscio che scende folo ruscio centralmente per raspadori che prova a scendere raspadori fermato da pimpia addirittura olivera va da folo ruscio che cerca politano centralmente per raspadori che va dentro per il ciolito poteva essere tripletta ragazzi ma va bene così buongiorno la mette fuori 4 a 2 sul buyer di monaco ragazzi bene 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 benissimo così benissimo così benissimo così ragazzi mettiamo alti 30 punti in cascina allora Grazie.